è terminato con un pareggio risultato di 0 a 0 la sfida da san giorgio piana e il san vitolo capo salutiamo mister chinici ciao e chiediamo subito che gara è stata ma uno guardando il risultato 0 a 0 magari può pensare che abbiamo entrambe tirato il remi in barca invece ce le siamo date di santa ragione è stata una partita giocata a viso aperto e loro ci hanno messo in difficoltà su qualche rilancio di pizzolato sapevamo che a un gran piede portiere quindi ci hanno messo in difficoltà su qualche palla così qualche palla inattiva però i miei ragazzi hanno retto bene l'urto e mi dispiace che nel momento migliore nostro abbiamo avuto l'esposizione di ferotti era erano minuti in cui eravamo là dentro quindi c'era nell'aria del gol però il calcio è questo diamo retto bene anche in 10 contro 11 quindi sono contentissimo dei dei miei giocatori perché quando non si può vincere non si deve perdere siamo soltanto di inizio stagione però potrebbe aver pesato aver giocato soltanto 90 minuti con la parma senza la gara di ritorno le chiedo se questa potesse essere una differenza in campo dal punto di sapreti con gli avversari che invece hanno giocato minuti in più rispetto a sua squadra ma guarda una partita in più o meno non cambia in questo momento si può mettere qualche minuto in più sulle gambe però con del lavoro in settimana io ho visto una squadra che ha retto come dicevo poco fa l'inferiorità numerica abbiamo abbiamo creato anche in 10 contro 11 siamo stati pericolosi diverse volte c'è da fare i complimenti al loro portiere un grandissimo portiere quindi ho visto due belle squadre oggi e comunque penso che si divertiranno in questo campionato come giudica l'ingresso in campo di balistreri e pietro sappiamo che ci porta quell'esperienza che che serve in questi campionati ci porta quella quella voglia che comunque a noi non ci dice non ci manca lo ha portato questo questa questa fame e che comunque lui è un ragazzo di 38 anni e ancora c'è il fuoco dentro quindi per noi sarà una risorsa però devo fare i complimenti ai miei locatori e specialmente di attaccanti a torres a maltese che hanno creato tantissimo si sono sacrificati tantissimo specialmente pure maltese io sono contento della prestazione di oggi ci sta in questo momento magari una squadra nuova di sana pianta magari dobbiamo agliare un po meglio i meccanismi però siamo sulla strada giusta adesso invece di uno sguardo alla prossima partita contro il folgare castelvetrano e chiedo che prima si aspetta dato anche la sconfitta di quest'oggi contro l'atletic sicuramente andremo ad affrontare un avversario che ho già perso contro l'atletic però penso che andremo ad affrontare avversario che vuole subito immediatamente riscattarsi però anche noi abbiamo voglia di andare a fare una bella partita in una grande piazza storica quindi vogliamo andare a giocare a castelvetrano a viso aperto